Uno dei coordinatori e dei coach più famosi in Italia ha fondato un'azienda milionaria a meno di 30 anni partendo dalla sua cameretta i suoi video sono stati visti da milioni di persone ha scritto libri best seller e il suo gruppo di aziende ha fatturato circa 10 milioni di euro intervistato da tv, radio e giornali di fama internazionale come Millionaire e Radio DJ i suoi libri hanno conquistato i cuori e le menti di decine di migliaia di persone ma poi soprattutto quanti anni avete quando avete creato questa azienda? qual è l'idea che sta sotto? io penso semplicemente che devi sapere dare valore alle persone se tu sai dare valore e hai le competenze per farlo cioè tu vieni pagato alla fine perché dai un valore aggiunto e questo è il punto cioè noi con Medio Universitario abbiamo dato un valore aggiunto sul mercato vi sveleremo infatti con l'aiuto di due esperti un efficace metodo di studio facciamo un grandissimo applauso per Andrea Acconcia bene, buon pomeriggio a tutti voi che ci stanno seguendo saluto il nostro ospite Andrea Acconcia che ho preferito introdurre con questo video che ha detto già tutto Andrea hai eliminato la parte più difficile del lavoro che è la presentazione assolutamente sì però non dimentico mai di presentare il nostro canale YouTube il canale YouFormation a cura della scuola europea di formazione EuroFormation dunque il titolo della trasmissione di quest'oggi è bello tosto, bello impegnativo diventa imprenditore di te stesso, parleremo di giovani, di lavoro, di futuro però è inevitabile che io ti chieda, vista la tua giovanissima età quanti anni hai Andrea? 31 ecco allora posso permettermi di darti del tu anche perché sarebbe ipocrita darsi del lei considerato che lo facciamo da quando ci siamo parlati la prima volta al telefono alla tua giovane età hai già messo su un'impresa di grandissimo successo la tua vita è stata davvero un'esplosione di energia, di fuoco come piace dire a te hai scritto diversi testi, diversi libri, l'abbiamo visto nella presentazione partendo da metodo universitario come studiare meglio in meno tempo e superare gli esami senza ansia scritto con Giuseppe Moriello, il tuo socio se non erro edito da Rizzoli nel 2019 poi attrae il lavoro per guadagnare tanto facendo un lavoro che ami e che aiuta le persone, è sempre edito da Rizzoli un paio d'anni dopo nel 2021 da studente a imprenditore, edito da Flaccovio nel 2020 poi tu sei perfetto, puoi cambiare la tua vita solo se ti accetti così come sei edito da Ucronia nel 2020 e Cuore e fuoco, questo mi incuriosisce da morire l'importanza di amare se stessi prima di poter amare qualcun altro You Can Print 2019 Allora, da dove è nato tutto questo? Intanto buonasera, è un piacere vederti è nato da un disagio esistenziale ne ho parlato proprio recentemente in un video tutto questo è nato, io ho fondato metodo universitario quando ero un po' più giovane adesso, avevo 25 anni ed è partito tutto da questa mansarda da dove sono, è curioso infatti che stiamo facendo queste interviste proprio da qui Da dove sei partito? Sì, esatto, il set l'ho un po' improvvisato, adesso non si capisce però se vi girassi un po' la telecamera, che non farò perché è tutto bruscamente in disordine Lasciamo l'immaginazione Non è più ordinata come una volta però mi sono, insomma, ho pensato di rimettere un po' in sesto questo set comunque è nato tutto da un disagio esistenziale dal fatto che stavo male e cercavo dei modi per stare bene sostanzialmente questa è la vera causa poi certo che le motivazioni a un certo punto poi cambiano perché per esempio subentra la motivazione di aiutare le persone però sarei un po' ipocrita nel non dire che è partito tutto dal fatto che stavo male a partire dall'università io studiavo tantissimo e quindi studiare mi impiegava un sacco di tempo con non sempre ottimi risultati nel senso che qualche 30 lo prendevo però a volte vennevi anche 22, 23 e quindi è da lì che nasce tutto nasce questa ricerca di voler sapere qualcosa di più che all'inizio si è focalizzata sul mondo universitario e poi è sfociata anche in altri ambiti Sei focalizzata sul metodo universitario tanto vero che tu hai messo a punto proprio una metodologia di studio Sì Vuoi che ne parlo un po'? Assolutamente sì È tanto che non ne parlo Cerco sempre di essere utile La presentazione anche del video è stata anche un po' Come dire Mi ha anche un po' emozionato perché se ti ricordi eravamo rimasti d'accordo che il video andava muto E se ne parlo queste cose A me ti piace fare le sorprese Sì Allora Sì Diciamo che l'obiettivo di questa intervista è cercare di dare degli strumenti utili per le persone che ci seguono Il metodo universitario è nato come dicevo da un problema fondamentale che ci dicono di studiare ma non ci hanno insegnato come studiare Io ero il primo che non sapeva come farlo E quindi da qui nasce questo metodo che nasce per dare una risposta Tutti gli studenti pensano Sì ma esiste il mio metodo di studio il tuo metodo di studio E io e Giuseppe da diversi anni Sono sei anni ormai Che da questa manzarda è nato tutto Cerchiamo di spiegare che è vero il contrario Cioè che noi pensiamo che esiste il mio metodo di studio Semplicemente perché quello non è un metodo Quello è il mio modo di studiare Che non c'è niente di male Ognuno studia come vuole Ciò non toglie che ci sono dei principi dell'apprendimento che sono comuni all'essere umano E che attraverso questi principi e queste strategie Si può studiare più velocemente e con migliori risultati Noi non abbiamo fatto altro che prendere queste tecniche Che in alcuni casi hanno millenni Come nel caso del Palazzo della Memoria Che ha introdotto Giuseppe nell'ambito universitario E ci abbiamo creato un metodo Ci abbiamo creato dei sistemi di efficacia personale E io mi piace definirmi come un ottimizzatore di risorse scasse Un coach fa questo Cerca di ottimizzare risorse scasse E di ottenere migliori risultati E il mio contributo al metodo è stato principalmente questo Cioè con Giuseppe abbiamo cercato di creare Un metodo che mettesse insieme Delle tecniche efficaci All'interno di una sequenza strategica Logica e cronologica Di fatti nel video abbiamo ascoltato di cosa ti occupi Tu sei un mental coach, un imprenditore e un formatore Quindi il mental coach Diciamo quanto torna utile oggi come figura In un contesto formativo Partiamo dal presupposto che le istituzioni della formazione Che siano pubbliche o private Comunque si preoccupano di trasmettere un sapere Quello che manca però forse È una metodologia corretta Che in parte voi avete superato Con la creazione di questo metodo universitario Ma c'è anche un altro lavoro da fare Un lavoro sul sé Un lavoro molto personale Giusto? Io penso che tutti quanti dobbiamo essere coach di noi stessi O anche se non ero Sì ho registrato un videocorso anni fa Che si chiama proprio coach di te stesso Perché parto dal presupposto Che noi tutti quanti dovremmo essere un po' coach di noi stessi Perché è così che otteniamo delle migliori performance A livello lavorativo Universitario Personale anche Dobbiamo essere coach di noi stessi Dobbiamo iniziare a capire che esistono delle strategie Per ottenere migliori risultati in meno tempo Il metodo non è altro che questo Noi abbiamo semplicemente preso dei concetti Che nel business erano già conosciuti Nell'imprenditoria erano già conosciuti Nel coaching erano già conosciuti Di efficacia personale Abbiamo portati ad un pubblico che non li aveva mai usati Considerati Perdonami ma è una categoria Che non si incula nessuno Perdonami il francese Però gli studenti universitari non se li erano mai Cioè erano considerati anche un target un po' Non diciamo facilmente monetizzabile Perché comunque gli studenti non hanno reddito E quindi non se li è mai A nessuno Filati nessuno Filati Scusa per la parolaccia Però non se li è mai filati nessuno E quindi io e Giuseppe abbiamo cercato di fare qualcosa di utile Per le persone Cioè non era possibile che gli studenti si suicidano Perché succede 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 Certo È raro però succede Perché non danno gli esami Magari Quello può essere un caso estremo Però Ce ne sono tanti Ma tanti 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 Che stanno male Stanno male Conosco personalmente persone che fingono Con la famiglia Con gli amici Che stanno dando gli esami E non li stanno dando Perché il peso del giudizio sociale è troppo Quindi abbiamo cercato di creare qualcosa Che possa Che potesse Aiutare le persone Aiutare gli studenti in questo caso A stare meglio Ad avere un metodo per stare meglio Ma anche un po' ad avere contatto con se stessi E quindi poi c'è tutto il discorso del lavoro su di sé Che è venuto dopo Perché poi mi sono spostato Sul lavoro su di sé In questo momento mi sto dedicando un pochettino più al mio personal brand E mi occupo Di lavoro su di sé E di crescita personale C'ho questa pazza idea Che poi faccio sempre cose che Sono un po' pazze Di mettere insieme anche la crescita personale E il lavoro su di sé Perché penso che possono essere conciliabili Ci sono dei bravissimi formatori di crescita personale Dei bravissimi formatori di spiritualità O relatori di spiritualità Io sto cercando di mettere insieme le due cose Perché credo che anche questo sia Sia un bene Hai un approccio olistico si potrebbe dire Ma quello che tu dici ha qualcosa A che vedere con la maglietta che indossi? Sì Sì Sarebbe anche carino spiegare che cos'è Che sono gli alieni Sì È certo È una parola che abbiamo scelto Perché effettivamente Contiene diversi significati Attira l'attenzione Quando io ce l'ho scritto anche dietro la maglietta Quando vedi alieni Eppure i bambini Vedono alieni E mi è capitato Perché poi io giro con questa maglietta Faccio sempre delle cose un po' particolari Non sempre Non sempre Non sempre Però a volte Cioè spesso giro con questa maglietta Anche in mezzo alla strada Alieni alieni Che cosa vuol dire un alieno? Un alieno per noi è una persona che Ha imparato a lavorare su se stesso E quindi Vede il mondo come un suo prolungamento Tutto il mondo Tutta l'umanità Pensa che il mondo sia qualcosa di esterno Cioè io sono Io Andrea E poi c'è il mondo esterno In realtà Ora è troppo lunga da spiegare adesso Però Prendiamola per buona come presupposto di lavoro In realtà è vero il contrario Nel senso che il mondo in realtà È un prodotto della nostra coscienza E la coscienza è che crea il mondo Non è il mondo che crea la coscienza Ripeto Sarebbe lunga da spiegare Adesso non credo che abbiamo tempo Però un alieno Lo sto creando Sono io che sto creando la realtà E quindi Di conseguenza mi prendo la responsabilità Al cento per cento di quello che accade nella mia vita Al cento per cento E questo è devastante È rivoluzionario Questa è la vera rivoluzione Che secondo me può cambiare il mondo Non che secondo me Che cambierà il mondo Ci vorranno magari millenni Però cambierà il mondo Il fatto di vedere il mondo come un mio prolungamento Vuol dire che Realizzo che sto creando tutto E sto creando sia le cose belle Sia le cose brutte Non è che sto creando soltanto le cose che mi piacciono Perché altrimenti interpretiamo questo concetto Ed è lì che voglio mettere insieme La crescita personale e il lavoro su di sé Interpretiamo questo concetto nel dire Ma sì io chiudo gli occhi Visualizzo che guadagnerò tanti soldi E mi arriveranno tanti soldi Mi dispiace ragazzi Se siete appassionati di crescita personale Non funziona così la legge di attrazione La legge di attrazione funziona sempre Esiste una legge Come la legge di gravità Cioè se prendo una penna e la lascio andare La penna cade per terra È vero che attraggo tutto Ma io attraggo quello che sono Non attraggo quello che voglio Quindi il pensiero positivo è importante Io sono un grandissimo fan del pensiero positivo Bisogna assolutamente nutrire la mente Di pensieri positivi Produrli E quando non sei in grado di produrli Perché stiamo male Anche semplicemente siamo giù di morale Possiamo creare delle strategie Per automotivarci Banalmente ascoltare podcast Ascoltare interviste come questa Ascoltare audiolibri Possiamo riempire le nostre giornate di positività La legge di attrazione Detto questo Che questo va benissimo E va bene farlo La legge di attrazione Vuol dire un'altra cosa Vuol dire che sono io che lo sto creando Quindi io creo il mondo Con la mia coscienza E lo faccio però Prevalentemente a livello inconscio Non conscio E quindi Questo criterio Quindi questo criterio Naturalmente poi ha sviluppato L'altro Diciamo così Filone della tua attività Tra il lavoro L'altro tuo brand Dove Aiuti comunque I ragazzi A prepararsi Praticamente Non solo teoricamente Perché Comunque la formazione Che si riceve È sempre una formazione Estremamente teorica Poi Nel momento in cui Ci ritroviamo A svolgere Una qualsivoglia Mansione Ci rendiamo conto Che ci manca alla pratica Confermo Confermo Sì Partirei da un aneddoto Se posso Perché è molto interessante A tra il lavoro A tra il lavoro Nasce in realtà Da Da un C'è C'è la componente interna Fondamentale Diciamo che dopo il successo Di metodo universitario Che appunto È arrivato Già Cinque Quattro Cinque anni fa È nata l'esigenza Di insegnare Le competenze Che ci avevano permesso Di avere successo Io e Giuseppe Eramo due ragazzini Che veramente Adesso sono ancora Un ragazzo Però all'epoca Avevo 25 anni 26 anni Eramo veramente Due ragazzini E Guadagni delle cifre Relativamente importanti Per quell'età Con delle competenze Noi non ce l'abbiamo fatta Perché avevamo Un metodo straordinario Quello ce l'avevamo Già Avevamo provato Anche a fondare Un'associazione culturale Ma con scarsi risultati Perché non sapevamo Comunicare Fare marketing E quindi Abbiamo iniziato A studiare Delle competenze Utili per il mondo Del lavoro Che Ci hanno permesso Di avere successo Questa è la verità E quindi a un certo punto Il moltiplicatore Di questo successo Erano persone In gamba Come noi Che Sapessero applicare Sapessero mettere In pratica Queste competenze E quindi Le avevamo imparate Le conoscevamo Abbiamo iniziato A insegnarle Prima gratuitamente Dopo a pagamento E poi negli anni È nato È nato tutto il progetto Di attraire lavoro Il libro di attraire lavoro E Diciamo con Diversi corsi di formazione Con cui noi Insegniamo Oltre al metodo di studio Che va sempre avanti È sempre il nostro Core business Metodo universitario Teniamo anche dei corsi Dei master Dei Dei videocorsi Per insegnare Queste competenze Ci piace mettere insieme L'interno con l'esterno Ci piace mettere insieme Il lavoro su di sé Che è la base Del nostro lavoro Per questo siamo Siamo alieni Col però le competenze Che altrimenti Diventiamo un po' Degli allocchi Che stanno lì a dire Ok lavoro su di me Però faccio anche qualcosa Nella materia Ci vuole poi Una realizzazione Una concretizzazione Più che altro Dei concetti Naturalmente Tutto questo Nasce Dall'osservazione Del mondo del lavoro Della sua evoluzione Del mercato Del lavoro Dal tuo punto di vista Come funziona Il mondo del lavoro Com'è cambiato Perché adesso Ci ritroviamo In questa situazione Di crisi Di caos Di quasi una babele I ragazzi Non sanno bene Come orientarsi Quale percorso Scegliere Ancora magari Subiscono Quel giudizio sociale Di cui parlavi Quindi se non sei laureato Se non hai scelto Il giusto corso Sei fuori Dal tuo punto di vista Qual è il percorso Corretto Per potersi Inserire in questo Mondo del lavoro Così difficile E così in continua Evoluzione Tra l'altro Partendo dal presupposto Che abbiamo Un'aneddota in sospeso Adesso Lo tiro fuori Quindi Perché credo Che sia Collegata La tua domanda Allora Ero al bar Una sera Una settimana fa In questo periodo Mi trovo un pochino In Italia Io vivo in Spagna Mi trovavo qui In questo bar In un paesino di montagna E trovo dei ragazzi Che mi conoscevano Più per sentito dire Che per Perché mi conoscevano proprio C'è qualcuno Che proprio mi segue E qualcuno che invece Ha solo Ah io t'ho visto Sui pubblicità Tu Ok va bene Inizia Iniziamo a Conoscerci Parliamo E dopo un po' Mi dice Non ricordo esattamente La domanda Che mi ha fatto Però la mia risposta È stata No no guarda Io non mi sono Lavoriato E lui Scioccato Perché dice Pensi Il fondatore E non si è Lavoriato Aspetta che è partita Siri Perché Il metodo universitario Sì Cioè Forse Legge Siri Spero che non si sia Stollegato E dice Come Il fondatore di metodo Non E cioè Fammi spiegare E E quindi Ho detto Guarda io non Sono Lavoriato E lui Bravo Coglione E effettivamente Mi ha un po' Scioccato Ho detto A questo ragazzo Adesso gli devo dare Una lezione Intanto sono rimasto Centrato Che è importante Questo già lo voglio dare Come spunto di Direzione Per chi ci sta Seguendo Se ricevete Un'offesa Cercate di restare Centrati Le persone Si scioccano Certo Perché si aspettano Una reazione Immediata Sì Ti aspetti L'attacco Ti aspetti Che lui O magari Rimane Offeso Io sono Assocentrato Gli ho chiesto Ma non mi hai chiesto Nemmeno perché Vuoi che te lo spieghi E allora ho raccontato Quest'aneddoto Che è interessante Cioè Gli ho spiegato Il perché Non mi sono Lavoriato Non mi sono Lavoriato Perché Per tutta una serie Di circostanze Io andai a fare Una tesi sperimentale A San Merill In UK In Inghilterra Nel 2016 L'anno di metodo Era già nato metodo E Mentre stavo dando Gli esami all'università Gli ultimi Perché ho dato Tutti gli esami In due anni E otto mesi È una giornale La mia Quindi ho dato Tutti gli esami Io ho fatto tutto Anche il tirocinio Cioè Solo la tesi Non l'ho dato Infatti mi hanno anche detto Che un giorno Se io volessi darla La posso dare Non perdo gli esami Mi sono anche informato Recentemente È stata È stata Una circostanza Particolare Perché andai a fare Questa tesi Che effettivamente Mi ha un po' Scioccato Perché studiai Nell'esami di storia Dell'educazione Con una professoressa Bravissima Mi piace appassionare Della materia Studiai La scuola di San Merill L'hai mai sentito parlare? No Io personalmente no Ma io non faccio testo Figur È una scuola Democratica E libertaria Esistono queste scuole È una scuola Dove i bambini Non sono obbligati La caratteristica principale È che i bambini Non sono obbligati A seguire le lezioni Com'è possibile? Un metodo? Lui è scioccato Che stai dicendo? I bambini Non sono obbligati A seguire le lezioni Non capiva L'ho messo in crisi Non mi sono lavoriato Era una cosa La risposta centrata È un'altra Su questa Com'è possibile? E dico No Sono i professori Che hanno Tra virgolette È un obbligo Perché lavorano Vengono pagati E quindi sono obbligati I bambini possono Andare a seguire una lezione Piuttosto che un'altra Scelgono loro La lezione da seguire O anche scelgono Di non fare niente Ah così i ragazzi Non imparano Non è vero I bambini Non hanno voglia di far niente I bambini hanno voglia di fare Basta che li fai divertire Basta che li coinvolgi E in questo caso Gli permetti di scegliere Lessi questo libro Mi pare di Francesco Codello Non voglio dire Una fesseria Liberi di imparare Che diceva proprio questo Diceva Noi per tutta La nostra vita Ci hanno detto Di fare una cosa Come farla Quando farla E dopo 18 anni Tutto questo Siamo pronti Per pensare Con la nostra testa Questa è una rivoluzione È un po' paradossale È un po' paradossale Che ci dicono sempre Cosa fare E poi siamo pronti A pensare Con la nostra testa Allora andiamo a studiare Questa scuola dall'interno Vedi che effettivamente Funzionava così Io poi col mio inglese Cercavo neanche di fare domande E di capire un po' La situazione E poi soprattutto L'ho visto Perché ho partecipato A delle assemblee Tenute da bambini Organizzate da bambini Dove la preside della scuola Stava lì a fare la maglia E non faceva niente I bambini facevano tutto Si organizzavano Quelli un po' più grandi Chiaramente avevano Un po' più di leadership Ma io ho visto Personalmente Con i miei occhi Bambini di 6-7 anni Che votavano 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 I bambini capiscono Pensano Sono Non hanno la maggiore età Magari certe cose Non le possono fare Però capiscono Se tu li coinvolgi Li fai c'è Certo Se li fatti con i miei bambini E' chiaro Che fanno i bambini Certo E' chiaro Però possono decidere Questa cosa mi scioccò Io scrissi la tesi Ora la faccio breve Perché altrimenti è lunga Da raccontare La tesi La tesi forse Era un po' poco istituzionale Questo lo confesso E non do solamente responsabilità Alla mia redatrice Perché lei fece la sua scelta E mi disse Guardi a concia Questa tesi così Non gliela posso approvare Non voglio fare assolutamente polemica Più da ragazzo Ce l'avevo un po' col sistema Adesso Mi è passata Insomma Cambiamo l'interno Cambiamo l'esterno Pensiamo a cambiare dentro Però Sta di fatto che mi disse Che dovevo riscrivere la tesi Non cambiare argomento Semplicemente riscriverla Io in quegli anni Ero già diventato il personaggio Col maglioncino verde Quindi avevo già Avuto il primo successo Ho guadagnato i primi soldini Non chissà che è Però In quegli anni già E tra fare quello Riscrivere la tesi E Riscrivere E scrivere Il mio primo libro Scelsi scrivere il mio primo libro Poi in quel momento La mia attività Stava Stava esplodendo Quindi Più che stava esplodendo Ero proprio necessario Cioè Ero un one man team Io e Giuseppe Facevamo un po' tutto noi Era necessario Certo Il mio tempo Aveva un grande valore aggiunto Cioè Oggi lo potrei fare Per dire Però In quegli anni no E quindi Qui mi collego alla tua domanda Perché L'aneddoto era questo Mi avevi chiesto Se non erro In che modo I ragazzi possono Rapportarsi al mondo Del lavoro Giusto E corretto Ti ho chiesto Com'è cambiato Il mondo Il mercato Del lavoro Perché adesso Le esigenze Sono decisamente diverse Rispetto a Anche soli Dieci anni fa Parliamo di Green economy Parliamo di Rivoluzione digitale Insomma Sono tante Le nuove competenze Che vengono richieste Quindi È difficile Per un ragazzo Per una ragazza Che è in procinto Di fare la scelta Più importante Della sua vita Capire come orientarsi Quindi È fondamentale Forse che prima Capisca Se stesso Primo step Capisca L'andamento Del mondo Del lavoro Il secondo step E poi Scelga un percorso Ecco Tu come suggerisci Loro di orientarsi Confermo assolutamente Quello che hai detto tu Prima bisogna Conoscere se stessi L'aneddoto Non l'ho raccontato A caso Perché volevo Che passasse Il concetto Del pensare In modo differente Se io inizio a pensare In modo differente Quindi faccio anche Questo tipo di esperienze Che mi aprono Un pochino al mondo Capisco che C'è queste cose Che noi consideriamo Scontate Come dire per esempio I bambini Devono Devono seguire Obbligatoriamente Le lezioni a scuola Non è per forza così Detto questo Che era il presupposto E la premessa Ma secondo me Esistono tre Grandi categorie Per lavorare Oggi Con il digitale Te lo posso dire Dalla mia esperienza Ma anche no Nel senso che Io appartengo A una di queste tre categorie Ma non è Non è l'unica Hai ragione È difficile Io penso che Da certi punti di vista È più semplice In realtà Perché abbiamo Molte più opportunità I miei genitori Non potevano Fare metodo universitario Dalla loro stanza Però dall'altra parte È più difficile Perché è difficile orientarsi Bisogna capire Poi Gli smartphone Sono una grande arma Che può essere usata A fin di bene A fin di male Possono anche un po' Distrarci da noi stessi Ancora qui Racconto di una chiacchierata Che ho fatto Di recente Con uno dei miei vecchi capi Il mio capo agenzia Perché ero un animatore Facevo Prima l'animatore E poi il capo animatore Nei villaggi turistici E lui mi raccontava Che oggi non si trovano più animatori Perché effettivamente I ragazzi stanno col telefono E quindi Quella gratificazione Che ti dà L'animazione Perché L'animazione Conosci gente Stai sul palco Ti metti in mostra Ti esibisci Ora te lo dà lo smartphone E quindi Non c'è tanta richiesta È difficile oggi Trovare animatori Per esempio Diciamo che è venuta Un po' meno La socializzazione In modo assolutamente paradossale Con tutti questi mezzi Di comunicazione È diventato più difficile Parlarsi E comunicare davvero Assolutamente Ma è oggi Scusami Mi è andata strotta l'acqua E oggi il problema Io poi prima parlavo Con un mio amico imprenditore Scusami Mi diceva la stessa cosa Cioè Proprio Si fa fatica A trovare persone Cioè ragazzi Veramente Lo dico Tutti i ragazzi Che ci seguono Svegliatevi Perché il mondo è vostro Cioè Si fa fatica A trovare persone Perché se uscite Un attimo Da quei telefoni Iniziate a vivere la vita Ci sono tante cose Da poter imparare Tante belle esperienze Che potete fare Mi riassocio Prima All'animazione Io con l'animazione Ho imparato tantissimo Nei villaggi Sono diventato un uomo Ho imparato a gestire Situazioni problematiche Come per esempio Gestione di una crisi Cliente arrabbiato Che devi gestire Oppure Team arrabbiato Che devi gestire E lì ho imparato Sia quando ero capo animatore E sia Quando non ero capo animatore Quando avevo dei capi animatori E vedevo da loro Come gestivano la crisi A volte bene E a volte male E vedevo Anche quando andavo Quando andava male Che cosa Come gestire certe cose Anche quando gestivano male Le cose Quando lo gestivano bene Io capivo che funzionava E dicevo Cazzo Ha ragione Ha fatto troppo bene Magari il problema Ero io Cioè la crisi Il problema Ce l'avevo io Con qualcun altro E il mio capo Gestiva benissimo La cosa E io poi Corsendo nel poi Dico Cavolo Ci ha visto Ci ha visto veramente Lungo a gestirla così Questo per dirvi Anche un concetto Di fate esperienza Questa è Poi sui tre lavori Sui tre modi Ci torno Però Anche qui il presupposto È fate esperienza Fate esperienza Il più possibile Perché Uscendo dagli smartphone Si può sicuramente I smartphone Vanno benissimo Sono utilissimi State guardando questa intervista Da uno smartphone O da un computer Quindi ti guardatevi Se sono contro Certo Però bisogna anche Fare esperienze Nel mondo reale Vengo ai tre lavori I tre modi Secondo me Per cavalcare Questa rivoluzione digitale Il primo è il mio esempio Sono gli imprenditori digitali Sono quelli che fanno Il mio mestiere Cioè Utilizzano i social Come strumento Per veicolare un messaggio Spendono soldi Per la pubblicità Su Facebook Su Google Su YouTube Su Instagram Su TikTok Spendono quindi Su questi social Ho detto una frase Su questi social È proprio da boomer Cioè Io sono millenni In realtà Però Non si può sentire Su questi social Sui social Scusatemi ragazzi Sto invecchiando Avete pazienza Spendono soldi sui social Per attrarre Un potenziale pubblico Che poi può diventare cliente Questa è la Proprio Hai un prodotto Servizio da vendere E quindi Spendi i soldi Per Questi imprenditori digitali Investi Insomma Non hai più i costi fissi Sì esatto Investi Il beneficio È che Non hai costi fissi O ne hai pochi Cosa che Dicevo Le opportunità che abbiamo oggi 50 anni fa Questa cosa non c'era Non potevi fare imprensa Con questi bassi Con questi costi fissi Bassi E questo è il primo modo Che non è l'unico però Il secondo è l'influencer Che io distingo Dall'imprenditore digitale Si può essere influencer Inprenditore digitali Io lo distingo perché Perché per me L'influencer era un altro obiettivo Io per esempio Non sono un influencer Io sono un imprenditore digitale Che a volte fa l'influencer Così perché mi va Perché a me piace Fondamentalmente Ma il mio core business Non è fare l'influencer Perché l'influencer È quella persona Che attrae Un grande pubblico Semplicemente Con la sua influenza Con quello che dice Con quello che fa E quindi c'è La travel blogger Piuttosto che L'esperto in tecnologia Che dà consigli Su come Su quale iPhone Comprare Comprare eccetera eccetera Questi due Sono i due Un po' più conosciuti Non c'è così tanto mistero Tra gli imprenditori digitali E gli influencer Bene o male Si conoscono Forse non si capisce bene La differenza Tu guardi me Pensi che io sono un influencer No io sono un imprenditore A me non interessa Avere così tanti follower Per l'influencer È la Essenziale È essenziale Se sei un influencer Non c'è i follower Non sei nessuno E quindi Bisogna capire il meccanismo Cioè l'imprenditore Che paga L'influencer Che può essere un imprenditrice Attenzione Come l'imprenditore Può essere un influencer L'influencer Può essere un imprenditrice Però tendenzialmente L'imprenditore Può pagare un influencer Per la sua visibilità Cioè per l'audience Che ha creato Ma tendenzialmente L'imprenditore Paga per questa visibilità Poi se ce l'ha Ben venga Il terzo tipo È quello che conoscono in pochi E sono i digital specialist E io suggerisco a molti Di intraprendere questa strada Perché Ci sono tanti influencer Forse anche troppi Cioè quanti travel blogger Ci stanno Dai moco tutto il bene Io vi voglio bene Però Cioè È una quantità esagerata Esatto Effettivamente è così Dove diavolo dobbiamo andare Penso che ci siano abbastanza travel blogger Capisco che lo sia di vita Di viaggiare E raccontare Quello che fai è bello Ma quello che ti piace Deve combaciare Anche con una richiesta del mercato Io vedo che ancora oggi C'è una grandissima 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 Richiesta Di digital specialist Io sono il primo Te lo dico Da datore di lavoro Che dà lavoro A delle persone Che sono dei digital specialist Cioè delle persone Che sanno fare il copywriter Copywriter digitale Spiega cos'è il copywriter digitale Sì sì Ora ci arrivo Copywriter digitale Video seller Funnel Fare le inserzioni Anche il venditore Il venditore telefonico Per esempio È uno dei lavori del futuro Diventare degli specialist In digitale Io mi ci metto anche i venditori Perché chiaramente Sei sempre un po' digitale Anche in quel caso Certo È fondamentale Perché queste persone Sono quelli che aiutano Gli imprenditori Gli influencer A esplodere Perché io Sono diventato Imprenditore C'è un'azienda milionare Eccetera eccetera Non mi voglio parlare addosso Ho ottenuto i risultati Che ho avuto Perché ho dei collaboratori In gamba Da solo Sei arrivato ad un piccolo business Che comunque Per carità Ci campavo Anche bene Però il moltiplicatore Per gli imprenditori Sono i digital specialist Sono quei componenti Della squadra Che ti permettono Di far crescere il tuo business E ce ne sono pochissimi Di bravi Ma veramente pochi Ma veramente Veramente pochi Veramente pochi Perciò il mio invito ai ragazzi È di specializzarsi In questi ambiti qua Anche perché Ti danno Tutta una serie di competenze Che poi puoi utilizzare E puoi fare anche Magari Inventutore digitale Un domani Io ho dei collaboratori Che hanno lavorato per me E poi si sono messi in proprio Perché hanno acquisito Lavorando con me Delle competenze Che poi Gli hanno permesso di dire Ok Prova a fare l'imprenditore Mi butto e lo faccio Ed è fisiologico È anche sciocco Per gli imprenditori digitali Voler cercare di trattenere E dire No no Devi lavorare con me O non è più così Cioè Il lavoro Ne parlavo anche Con il mio socio Recentemente Il lavoro di una volta Quello Lavori per 30 anni Con un'azienda Il cosiddetto posto fisso Poi per carità Ci può stare Che qualche eccezione Ci sia Quindi che si collabora Per tanti anni insieme Ma lo dai per scontato Che 3, 4, 5 anni Poi si può cambiare Si possono fare esperienze diverse O comunque Devi prevedere esperienze diverse All'interno della stessa collaborazione Quindi le persone Che collaborano con me Magari poi nel tempo Arrivano a ricoprire Dei ruoli diversi Ruoli manageriali Per esempio Perché poi Si può diventare anche Un manager digitale E anche per quello Ci vogliono i cojones Cioè ci vogliono Degli attributi notevoli Per gestire le persone Anche magari Soprattutto in digitale Con lo smart working Non è che non devi Saper fare il manager Lo devi saper fare Devi saper gestire Può essere Anche più difficile Se lo fai a distanza E lo fai in smart working Quindi questo I digital specialist Io vi suggerirei ragazzi Di approfondire Queste competenze Perché secondo me Sono quelle Che hanno più mercato oggi E che lo avranno Sicuramente anche nel futuro Perché mi sembra evidente Che la strada imboccata Sia proprio quella Che qualità Bisogna avere Andrea Per essere imprenditori Di se stessi Tu per esempio Sei stato estremamente Perseverante Nella tua vita I tuoi inizi Non sono stati semplicissimi Parlo proprio Da quando eri Bambino Tu hai frequentato La primina Se non erro Quindi eri il bimbo Più piccolo Più basso E quindi hai dovuto Sviluppare No Ho guardato il video Scusa ma È più semplice Per cui Hai dovuto Superare Tanto dei limiti fisici Quanto dei limiti Psicologici Se vogliamo Ma più che altro Limiti imposti dagli altri Ecco Quali sono Le caratteristiche Su cui ognuno di noi Deve lavorare Per raggiungere L'obiettivo Che si è prefissato È una bellissima domanda Sì Se devo dirtene una La La resistenza E la resilienza Sì Ti parlerai della resilienza Perché è collegata Anche Un po' Al mio passato Io sono cresciuto In un contesto Abbastanza difficile Per un ragazzo Ho fatto un'adolescenza Abbastanza Brutta Triste Dura Sì La resilienza È la capacità Di resistere Ad un urto Per definizione E io direi Proprio la resilienza È quello che mi ha permesso Di sopravvivere Un po' All'adolescenza Che ho avuto Di fare l'imprenditore digitale Perché Devi prendere le mazzate Sostanzialmente Cioè Riesci Riesci a farcela Soltanto se riesci A gestire delle mazzate Emotive Parliamo di mazzate emotive Facevo prima Un esempio Di un tuo collaboratore Che decide Di non lavorare più con te All'inizio È un trauma È brutto Una persona Che magari Ci hai lavorato Per tutta la vita Professionale Quindi parlo Degli ultimi 3-4-5 anni Però è tanto Se ne va È brutto È brutto da gestire Ma Te posso dire qualsiasi cosa Te posso dire il cliente Che si lamenta Perché ci sono Forse è anche interessante Parlarne Perché A me piace anche un po' Scendere da questo piedistallo Che mi mette Su cui mi mette inevitabilmente Il mio lavoro Perché Facendo il coach Parlando anche di crescita personale Lavoro su di sé È un attimo A finire sul piedistallo E io dico sempre Raga Calma Questo è il piedistallo Io ci scendo Dico Fermi tutti Momento Ma direi che Per esempio Il cliente che si lamenta È una cosa Da Da saper gestire Da Emotivamente È brutto Mi ricordo Tanti anni fa Quando avemmo I primi clienti Che si lamentarono Perché Non avevano ricevuto Avevamo fatto un regalo Ai nostri clienti Quindi una cosa in più Solo che Ad alcuni clienti Che avevano speso meno Avevamo fatto un regalo Ad altri Che avevano speso di più Avevamo fatto un altro regalo Non l'avessimo mai fatto Avemmo Per partire una class action Oh raga Premesse Possiamo sbagliare Io posso sbagliare Anche errori più gravi di questo Magari li ho fatti Per carità Cioè non Veramente Questo è il piedistallo Io scendo E dico raga Sono un essere umano Sono un ragazzo Mi sono ritrovato Con questo successo A meno di trent'anni Non ho fatto tutto giusto Assolutamente Ho sbagliato tante volte Con i clienti Con i collaboratori Non voglio né passare per santore Né fare il moralizzatore Che Proprio per niente Certo Sbaglio Come sbagliamo tutti Cerco di fare del mio meglio Cerco di fare più cose buone Rispetto a quelle cose sbagliate Questo è L'obiettivo Detto questo La resilienza Cioè resistere Ad una specie di polemica Perché no Una specie Una polemica Creata dai tuoi clienti Dalle persone che per te sono tutto Perché in quel momento Soprattutto Cinque anni fa Quando certi strumenti Non ce li avevo Cinque sei anni fa I tuoi clienti sono tutto E io e Giuseppe Ci troviamo Mi ricordo una volta in macchina A gestire questi commenti Ci guardammo Nella macchina Stiamo guidando mio fratello Ci guardammo Diciamo Giuseppe Ma che stiamo a fare? Cioè Ma Com'è possibile Che è successo tutto questo? E magari noi Anche lì Agganciati da sta polemica Diciamo Chiudiamo un attimo tutto Vediamo che dobbiamo fare E capita È capitato varie volte Avere qualche cliente Che può aver avuto Delle lamentele E quindi torna anche L'esperienza dei villaggi Che ti dicevo prima Bisogna essere resilienti Ragà Ma nella vita Io penso Anche se si fa l'influencer O il digital specialist O se si fa l'operaio Per dire Si deve essere resilienti Cioè bisogna essere capaci Di resistere agli urti L'imprenditore Lo deve fare di più Perché rispetto a un lavoro fisso Chiaramente Può essere più frequente La possibilità Di ricevere urti E l'altra cosa Penso che sia anche Trasformare l'urto In qualcosa di positivo Perché alla fine L'esperienza proprio a quello serve No? Gli errori di cui tu Ma il meno in un più Come? Non ho capito Andrea Scusa Trasformare il meno in un più Certo Dicevo trasformare il meno in un più Certo Perché poi alla fine Quegli errori Sono stati utili nella tua vita Li hai rielaborati Li hai resi qualcosa Invece di positivo Anche il fatto che Qualche tu collaboratore Poi con gli anni Abbia deciso di andare via Tutto sommato E anche un tuo successo Oltre che un suo Questo non permettere sul piedistallo Ma perché è giusto Che tra esseri umani Ci sia uno scambio Che aiuti poi La crescita reciproca Quindi Mi pare di poter riassumere tutto In Resilienza Determinazione E impegno Queste sono sicuramente Le tre caratteristiche Che sono indispensabili Per diventare imprenditori Di se stessi Un'ultima domanda Perché siamo ai 38 minuti Posso aggiungere una piccola cosa Oltre all'impegno Qualcosa più dell'impegno Cioè se volete avere successo Ragazzi dovete essere Un pochino ossessionati È una brutta parola Ossessionati Perché io dico sempre Per senso positivo Però Martellare Martellare Per tre, quattro, cinque anni Pensare solo a quello Io magari sono anche Un po' esagerato Perché per tre, quattro, cinque anni Ho proprio tolto da mezzo Tutta la mia vecchia vita Tutti i miei vecchi amici Ho esagerato Però raga Dovete Dovete martellare Almeno in quegli anni In cui dovete acquisire le competenze Poi certo che Puoi cambiarsi di vita Però Qualcosina di in più Dell'impegno Vai pure con l'ultima domanda Ultimissima domanda A che punto è il tuo villaggio? Eh, ci stiamo lavorando Ci stiamo lavorando A me piace dire Che il villaggio È già qua Nel senso che Se non 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 prendiamo coscienza Del fatto che siamo noi Il villaggio Che anche io e te In questo momento Siamo il villaggio Come lo dico A ogni corso di formazione Quando Quando facciamo ancora I corsi di formazione in aula La dicevo spessissimo Questa cosa Il villaggio è già qua Ma il villaggio è anche Quando vai al bar E qualcuno ti Ti risponde male Capita spesso Che purtroppo Siamo serviti da persone Che sono frustrate O non amano il loro lavoro Tu paghi Col Col 50 euro E dici E come Mi dai Il 50 euro Per due caffè Eh No che ti risponde male E dici guarda Scusi volevo pagare Volevo pagare Cioè non è che Volevo rubarlo il caffè Al massimo Dice gentilmente Mi può dare Un A moneta Ecco Però non sempre Non sempre questa cosa avviene E quindi Come scrissi anche tempo fa In un articolo Uno degli ultimi Che ho scritto sul mio blog Dobbiamo metterci noi L'amore che non ci mette lui E questo è il villaggio Il villaggio non è Mettersi sul piedistallo E giudicare lui Che Poi per carità Io faccio delle constatazioni Che secondo me Vanno fatte Sono doverose Ma quelle sono un'altra cosa Sì ma guardate Che non è normale Bisogna dirlo Che un esercente Ti risponda così Ad un cliente Non è normale Ma non è normale Pure tra due passanti Della strada Certo Premesso che io sono Cresciuto in un posto Dove la gente è aggressiva Ma anche nel modo di parlare Noi urliamo Noi urliamo E poi mi sono reso conto Di questa cosa Col tempo Perché ho conosciuto persone Ma pure in Italia Cioè tu urli Vabbè ok grazie Grazie Perché Per Insomma per cultura Ma dicevo Il villaggio è già qua Nel senso che Siamo noi il villaggio Cioè è in quel momento Che premesso che Ci lo puoi far notare Se glielo vuoi far notare Devi metterci tu l'amore Che lui non riesce a metterci Devi tu vedere la bellezza In quella persona Che sta male E tu in realtà Con la tua centratura Lo puoi aiutare Lo puoi aiutare Puoi rispondere Con assertività per esempio Puoi dire Scusi mi dispiace Ho soltanto 50 Si può fare qualcosa Le sciocchi le persone Non sono abituate Sono abituate a persone Che scappano O che lottano E quindi O che aggrediscono Allora O che ti urlo conto Poi dici Non ci vengo più Qua E invece Premesso che è una cosa Legittimissima Il non andare in un locale Dove trattano così Non sto criticando Assolutamente chi lo fa Perché ripeto Certe cose Bisogna farle notare Detto questo Credo che Essere nel villaggio Vuol dire Amare i nostri nemici E il nemico Non è per forza Quello che ti spara Con la pistola Per carità Fortunatamente Non viviamo in un periodo Storico del genere Ma il nemico È quello che Ti taglia la strada In mezzo alla strada È quello che ti risponde Mare al bar Questo è il nemico Ed è quello che dobbiamo amare Anche se è una cosa interna Qui concludo Perché Non deve esserci Per forza Uno ti picchia Il tuo fidanzato Ti picchia Lo devi amare È un nemico Va bene Ti potete lasciare Va benissimo Ma internamente Lo puoi amare Ti conviene a te Amarlo E perdonarlo Mi fermo Perché qua Se non sarebbe Un'altra puntata Però si può Mi permetto Mi permetto Di aggiungere Che bisogna imparare Ad amare di più Anche se stessi Probabilmente Perché Il più delle volte I primi nemici Siamo proprio noi I nemici di noi stessi Quindi Imparare ad amarsi A conoscersi E ad accettarsi Per quello che si è Poi Si può sempre Migliorare Dico sempre Che noi siamo Migliorabili Siamo perfettibili Quindi è una possibilità Che abbiamo tutti quanti Prego Andrea Sì anche perché Il nemico È una parte di te Il fastidio È una parte di te Quindi è sempre Un amor proprio Esattamente Bene Siamo arrivati A 42 minuti Che sono Volati Quindi vuol dire Che la nostra Almeno per me È stata una conversazione Estremamente piacevole Anche per me Anche per me È molto piacevole Complimenti per il lavoro Che stai facendo Poi tu hai Una bellissima voce Quindi Ti presti molto A questo A questo lavoro Vabbè Adesso sono io Che scendo Dal piedistallo Non mi ci mettere Perché non mi piace Ringrazio tutti voi Per averci seguiti Mi dispiace Non ho spiegato Il copywriter Magari la prossima volta Spiegiamo Allora Guarda Facciamo una cosa Ti coarto Proprio pubblicamente Adesso in piena diretta Faremo un'altra Trasmissione Dove approfondiremo Questi argomenti Perché adesso abbiamo Ecco Dato un quadro generale Di quella che è La tua attività Di quello Che è il tuo metodo Di quella che è stata La tua esperienza Imprenditoriale Ma è il caso Sicuramente Di entrare un po' più Nello specifico Nel merito Perché parlare Del mercato del lavoro È una cosa L'abbiamo detto Abbastanza complicata Adesso Per cui Sì Ebbene Spiegarla e chiarirla Nel modo più semplice E diretto possibile Ma non si può fare In poco tempo Quindi Ti copto Sin da ora Per una prossima intervista Magari La facciamo a settembre Quando Saranno un po' finite Le vacanze Sarà Tornato a regime Anche il tuo ritmo Lavorativo Quindi Io Con il nostro Anche piacere Naturalmente Io ti ringrazio Per essere stato qui Con noi Quest'oggi Per averci Reso partecipe Della tua esperienza Della tua vita Per aver dato A tutti coloro Che ci seguono Sicuramente Dei preziosissimi Consigli E suggerimenti Ringrazio tutti voi Per averci seguito Vi informo Che il nostro canale Non andrà in ferie Quindi continueremo Per seguitarvi Anche durante il mese Di agosto E questa volta Lo faremo Presentandovi I nostri docenti Tutti coloro Che hanno realizzato I corsi Che trovate Sulla piattaforma digitale Di Euroformation Vi invito Naturalmente Ad iscrivervi Al nostro canale YouTube Per rimanere Sempre aggiornati Sulle nostre interviste A visitare La nostra pagina LinkedIn E la nostra pagina Facebook Grazie ancora Ad Andrea Per essere Stando con noi Grazie Andrea A Concia E ci rivediamo presto Ci rivediamo Fra qualche giorno Nel frattempo Vi auguro Un buon fine settimana Arrivederci a tutti